In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur. Maria Sede Sapientiae Ora Pronobis. Continua la lettura dell'opera Imitazione di Cristo, Libro I, Capo X. Delevitare le parole superflue. Fuggi quanto puoi il tumulto degli uomini, poiché di grande impedimento è l'occuparsi di cose temporali, benché con semplicità d'intenzione. Facilmente restiamo macchiati e presi dalla vanità. Più di una volta vorrei avere taciuto e non essere stato in mezzo agli uomini. Ma perché sì volentieri parliamo e chiacchieriamo, mentre di rado torniamo al silenzio, senza danno della coscienza? Parliamo sì volentieri perché coi mutui colloqui cerchiamo consolarci a vicenda e bramiamo sollevare il cuore oppresso dai molti pensieri. E molto volentieri discorriamo e pensiamo di quelle cose che molto amiamo e desideriamo, oppure che ci contrariano. Ma oimè, ben sovente, senza pro, poiché questo conforto esteriore non è picciol danno alla consolazione interna e divina. Perciò conviene vigilare e pregare affinché il tempo non passi nell'ossio. Se è lecito e conveniente il parlare, parla di cose che servano delificazione. Il mal costume e la negligenza nell'avanzamento spirituale contribuiscono assai al mal governo della lingua. Però giova non poco al profitto. Noi potremmo aver molta pace se non vogliamo. Se non volessimo occuparci delle cose che dicono e fanno gli altri e che non ci riguardano. Come potrà lungamente restare in pace colui che si immischia negli affari degli altri, che cerca al di fuori le occasioni che poco o di rado si raccoglie interiormente? Beati semplici perché avranno molta pace. Perché alcuni santi furono così perfetti e contemplativi? Perché procurarono di far morire intieramente in se stessi tutti i desideri terreni e quindi poterono stare uniti a Dio dal fondo del cuore ed attendere liberamente a sé? Noi siamo troppo occupati dalle nostre passioni e troppo affannati dalle cose transitorie. Di rado vinciamo perfettamente anche un solo vizio e non ci infervoriamo a progredire ogni giorno. Perciò restiamo tiepidi e freddi. Se fossimo perfettamente morti a noi medesimi e non impacciati nelle cose terrene, potremmo gustare le divine e sperimentare alcunché della contemplazione celeste. Il più grande impedimento sta in questo che non siamo liberi dalle passioni e dalle concupiscenze né ci sforziamo di entrare nella via perfetta dei santi. Per poco che ci accorda in contrario, subito ci perdiamo d'animo e ci volgiamo alle consolazioni umane. Se ci sforzassimo da forti di perdurare nella battaglia, certamente vedremo su di noi dal cielo l'aiuto del Signore, poiché Egli è pronto ad aiutare coloro che combattono e sperano nella Sua grazia, Egli che ci procura le occasioni di combattere affinché vinciamo. Se facciamo solo consistere l'avanzamento religioso nelle pratiche esteriori, la nostra devozione finirà ben presto. Ma poniamo la scure alla radice affinché, purgati dalle passioni, possediamo la pace dello spirito. Solche estirpassimo un vizio all'anno, saremmo ben presto uomini perfetti. Ora invece sentiamo sovente di essere stati migliori e più puri al principio della nostra conversione, che non dopo molti anni di professione. Ogni giorno dovremmo infiammarci e progredire di più, ma ora sembra già gran cosa se alcuno può conservare una parte del primo fervore. Se ci facessimo un po' di violenza in sul principio, potremmo poi far tutto con facilità e con gioia. E' gravoso troncare le abitudini, più grave ancora far contro la nostra volontà. Ma se non vinci le cose piccole e leggere, come supererai le più difficili? Resisti fin da principio alla tua inclinazione, ed avvezzati a rompere la consuetudine viziosa, affinché a poco a poco non ti conduca a difficoltà maggiore. O se tu pensassi quanta pace procureresti a te stesso e quanta gioia agli altri comportandoti bene, credo che saresti più sollecito dell'avanzamento spirituale. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen.